la gente sapendo che lavoro in questo campo mi dice di avere ai denti delle fitte dolorose si limita in alcuni semplici gesti come bere delle sostanze fredde come mangiare un gelato perché privarsi di questi piccoli piaceri quotidiani è una situazione che può essere trattata facilmente utilizzando un dentifricio specifico per i denti sensibili un dentifricio come sensodine ecco perché la gente continua a utilizzare i dentifrici sensodine va bene